Le nevicate sul confine hanno portato nel primo pomeriggio al fermo temporaneo dei mezzi pesanti in A23 all'altezza di Udine. Si è formata una lunga fila di tir in direzione nord. Previste altre nevicate e l'apertura di nuove piste da sci dalla prossima settimana. Il Partito Democratico ha presentato le proposte del gruppo DEM alla manovra di bilancio regionale. Si va dalla riduzione dell'addizionale IRPEF, azzerata per i redditi fino a 15 mila euro, ai bonus più selettivi contro il caro energia per le piccole imprese. Abbiamo ricevuto le vostre segnalazioni sulla raccolta dei rifiuti a Udine. Siamo andati a controllare questa sera le telecamere di Fair Play in via Forni e Malborghetto, tra bidocini dimenticati e sacchetti ammassati. È arrivata nella grande mela la nave da crociera varata due settimane fa a Monfalcone parata di stelle da Sofia Lorena Bocelli per la MSC Seascape, gioiello tecnologico di Fincantieri. Buonasera a tutti i telespettatori di ETV12 e ben trovati in diretta per questa edizione serale del nostro Tg. Lo avete sentito in apertura il maltempo con le forti nevicate in montagna, soprattutto nei pressi del confine, che hanno causato qualche disagio in autostrada nel primo pomeriggio di oggi. Per precauzione i mezzi pesanti sono stati fermati temporaneamente all'altezza di Udine Nord. Si è formata una lunga fila di mezzi pesanti in autostrada. Anche per le prossime ore, in particolare per domani pomeriggio e domenica pomeriggio, sono attese altre nevicate, anche a quote più basse, e questo fa ben sperare per un possibile ampliamento del demanio sciabile a partire dalla prossima settimana. Allora sentiamo Monica Nardini che nel primo servizio ci traccia un quadro aggiornato della situazione. Fiocchi di neve copiosi nelle scorse ore in Carnia e al confine con l'Austria, in particolare da Pontebba in su, tanto da comportare il divieto temporaneo di circolazione ai mezzi pesanti, oltre le 7 tonnellate e mezza, nel tratto autostradale di A23 da Udine Nord in direzione Tervisio, tra le 13.15 e le 15.00. Poi la situazione è ritornata regolare, come confermato dalla polizia stradale operativa nell'area. Nel comune di Tervisio i vigili del fuoco del locale di staccamento sono intervenuti intorno alle 11.00 lungo la strada statale 13, in via Principe di Piemonte, per la fuoriuscita di strada di un'auto precipitata per una ventina di metri in una scarpata. A loro arrivo la conducente, una giovane che viaggiava da sola, era già uscita autonomamente dall'abitacolo. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Si attendono nel frattempo gli sviluppi della situazione meteorologica per le prossime decisioni rispetto ai polisciistici nel territorio regionale. La stagione è stata inaugurata questo giovedì con l'apertura di sciatori del solo polo di Sellanevea, con alcune piste e impianti di risalita e, per gli appassionati di fondo, della funivia di Ravascletto, che permette di testare il nuovo anello in quota. Accessibili solo ai pedoni, la telecabina del Lussari a Tarvisio e, a Piancavallo, la seggiovia Tremolo 1. Come spiegato da Promoturismo FWG, le condizioni meteo non hanno consentito di aprire le altre località in questo ponte dell'Immacolata. Il prossimo aggiornamento è fissato per domenica pomeriggio e già dalla prossima settimana le aperture potrebbero subire modifiche. E dopo la perturbazione di oggi, nelle prossime ore, è in arrivo un altro fronte più moderato che interesserà la nostra regione tra domani e domenica. I previsori dell'Osmerarpa annunciano dal pomeriggio di domani, cielo coperto, con deboli piogge sparse e una quota neve oltre i 700 metri circa. Sulla costa dal pomeriggio soffierà bora moderata, sostenuta dalla sera. Per la giornata di domenica, cielo coperto e temperature massime in diminuzione. Le massime toccheranno i 6 e 9 gradi domenica. Sulla costa soffierà bora moderata, mentre in montagna sono possibili delle nevicate, soprattutto di notte e al mattino, con quota neve che la sera toccherà i 400 metri di altitudine. Per la giornata di lunedì in arrivo aria fredda e secca. Adesso voltiamo pagina e passiamo alla pagina politico-amministrativa con il Partito Democratico che oggi ha presentato le proprie proposte di modifica alla manovra di bilancio che sarà in discussione in Consiglio regionale a partire da martedì. Una manovra di bilancio che tocca i 5 miliardi di euro e che, secondo il Partito Democratico, deve dare risposte forti al territorio. Tra le proposte del gruppo DEM, l'azzeramento dell'addizionale IRPEF per i redditi fino a 15 mila euro e la riduzione dell'aliquota per i redditi più elevati e poi gli interventi più selettivi per gli aiuti alle piccole e medie imprese in particolare. Poi c'è anche l'ampio tema della sanità. Andiamo a sentire le parole del capogruppo, Diego Moretti. Il bilancio di quest'anno è l'ultimo bilancio di legislatura e quindi, accanto alle proposte, ci sarà anche una valutazione politica di questa legislatura nei confronti della maggioranza. Detto questo, abbiamo delle proposte che riguardano, in primis, la questione fiscale per cui crediamo che con l'ingente mole di risorse che il bilancio di quest'anno vede è necessario dare un segnale ai cittadini, riducendo le imposte a suo carico e quindi un intervento sull'addizionale regionale. Abbiamo un intervento sugli enti locali, quindi sui comuni, il costo aumentato dell'energia. Abbiamo un intervento sulla sanità che stiamo concertando in queste ore con le opposizioni e poi c'è un intervento sugli investimenti delle piccole e micro imprese a favore del risparmio energetico e quindi un intervento sugli impianti fotovoltaici. Intanto per quanto riguarda i progetti, i piani di investimento della regione è arrivato il via libera da parte della Commissione europea, il programma regionale che prevede investimenti per 365 milioni da parte del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda invece la riqualificazione dei complessi produttivi degradati sono state attivate proprio in questi giorni due nuove misure. Sentiamo Alice Mattelloni. La Commissione europea ha approvato il programma regionale da 365 milioni con cui il Friuli Venezia Giulia intende rispondere alle sfide dei prossimi anni. Alle risorse comunitarie si aggiungono le risorse di derivazione esclusivamente regionale che si attestano tra i 110 e i 140 milioni di euro, più 80 milioni di risorse regionali integrative da destinare ai progetti rimasti esclusi dal programma e che saranno convertiti in progetti strategici delle direzioni regionali e degli enti locali. Al centro del rilancio regionale ha sottolineato Barbara Zilli ricerca, innovazione e digitalizzazione oltre alla internazionalizzazione e al rafforzamento aziendale. Nel frattempo due misure sono state attivate in concomitanza per attrarre maggiori investimenti e per riqualificare complessi produttivi degradati. 10 milioni di euro totali per due nuovi bandi aperti fino al 28 febbraio in favore delle imprese. La misura relativa agli incentivi e all'insediamento è già misura strutturalmente consolidata, arrivata alla sesta apertura del bando, che ha già trovato riscontro positivo nel tessuto produttivo. Come ha ricordato l'assessore Sergio Emidiobini, a fronte di un sostegno finanziario complessivo di circa 60 milioni da parte della regione, ha generato oltre 110 progetti e investimenti complessivi per oltre 310 milioni di euro e creato occupazione stabile per quasi 1000 unità. La seconda misura riguarderà invece, nello specifico, la riqualificazione di 180 complessi produttivi degradati censiti dal masterplan regionale in 115 comuni del Friuli Venezia Giulia. La regione mette per questo a disposizione contributi nella misura massima del 50% delle spese ammissibili per un massimo di 200 mila euro. Tante in questi giorni sono le persone, anche i bambini a letto, colpiti dall'influenza o da altre sindrome simil-influenzali. Nell'ultima settimana, secondo il bollettino della rete di sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, sono stati quasi un milione gli italiani colpiti dall'influenza che ha raggiunto anche l'incidenza più alta dal 2009. L'influenza quest'anno è più precoce e ha anche un'incidenza che nell'ultima settimana ha sfiorato i 16 casi ogni 1000 abitanti, superando appunto il picco delle stagioni precedenti a partire dalla stagione 2019-2010. In totale, dall'inizio del monitoraggio, sono 3 milioni e mezzo le persone contagiate. Tanti i bambini, i casi di sindrome simili-influenzali, secondo il report di InfluNet, nei bambini sono veramente da record. E dall'influenza passiamo al coronavirus, ai risultati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, dal quale emerge una riduzione dei nuovi casi del 2,8% per un totale di circa 221 mila casi, ma un aumento dei decessi nell'arco della settimana, più 8%. L'RT è in leggero calo, siamo a 1,10 rispetto all'1,14 della settimana precedente, comunque sopra la soglia epidemica dell'unità. L'incidenza settimanale è pari a 375 ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 386 della scorsa settimana. Il tasso di occupazione dei reparti ordinari vede un aumento in tante regioni, salgono da 7 a 9 le regioni in cui questo tasso supera la soglia d'allerta del 15% e il Friuli Venezia Giulia con il 22,9% è una di queste regioni. Per quanto riguarda invece le terapie intensive, il tasso di occupazione è ovunque al di sotto del 10%, ma anche qui il Friuli Venezia Giulia vede un tasso particolarmente elevato rispetto alle altre regioni, siamo al 6,7%, il dato maggiore è stato registrato in Liguria con il 7,1%. E in queste condizioni di diffusione dei virus, ma soprattutto di abbassamento delle temperature, dell'arrivo anche del freddo, in particolare nei prossimi giorni, cresce anche l'emergenza che riguarda le persone che non hanno la possibilità di ripararsi e di coprirsi anche dal freddo. Per questo il centro Caritas della Diocesi di Udine ha indetto una raccolta straordinaria di indumenti invernali per la giornata di domani. Monica Nardini è andata proprio alla Caritas per fare il punto della situazione. Monica, buonasera, te la linea. Buonasera da Via Treppo, ci troviamo fuori dalla sede della Caritas Diocesana di Udine perché l'emporio della stessa, Pane Gaban, che ha sede in Via Marangoni numero 99, questo fine settimana sarà aperto per una raccolta straordinaria di vestiario, scarpe, oggetti vari a sostegno dei più bisognosi profughi, ma anche tanti italiani, friulani, che sono senza un tetto e sono in condizioni di estrema povertà. L'emporio resterà aperto in particolare questo sabato dalle ore 14 alle 16.30 e domenica dalle 9 alle 12 si cercano vestiti, scarpe, lenzuola, coperte, asciugamani, oggetti per bambini, vestiario per bambini e donne, ma anche elettrodomestici in buone condizioni. In particolare si cercano indumenti per uomini di taglia S e M. Questo ci è stato per il momento riferito. Indumenti dunque in buono stato, puliti, utilizzabili subito, perché c'è un grande bisogno, come ci ha spiegato anche il direttore della Caritas Diocesana, Don Luigi Gloazzo. Allora sentiamo che cosa ci ha detto e poi di nuovo linea allo studio. Don Luigi, c'è un'iniziativa importante questo fine settimana a sostegno dei più bisognosi che coinvolgerà proprio l'emporio della Caritas. Certo. All'interno della quotidianità abbiamo creduto opportuno offrire alle persone, alle famiglie, il fatto di poter donare dei vestiti in buono stato, puliti, perché dei giovani adulti che sono nelle nostre strade, che cercano di vivere in questo tempo di freddo, di inverno, per loro è più facile trovare qualcosa da mangiare, molto più difficile trovare dei vestiti. Allora domani, sabato, il pomeriggio, domenica mattina, possiamo accedere a via Marangone 99 e offrire questa possibilità. Evidentemente mettiamoci una mano sulla coscienza, non andiamo a dare cose che non servono a nessuno, ma che in qualche modo in famiglia vengono conservate in attesa magari di essere offerte a persone che ne hanno bisogno. Di cosa c'è più bisogno? Vestiario, ma anche coperte, lenzuola, asciugamagni non sono? Beh, certo, sono queste le cose che servono per vivere. Anche le coperte, indubbiamente. Noi facciamo in modo che siano pulite e che i nostri giri normali della sera o della notte, dove andiamo a trovare le persone che vivono alla viaccia, magari sotto una tenda, così, di offrire questo minimo perché possano accedere poi ai nostri centri di ascolto o alla mensa o al fogolar, che è l'asilo notturno. Povertà che riguarda numerosi profughi, ma anche numerosi friulani italiani. Sempre più, perché noi quando pensiamo alla povertà pensiamo sempre alle persone straniere. Straniere, non è vero. Ci sono delle persone straniere che hanno il grande handicap di non avere una tutela giuridica, che abbiamo tutti noi cittadini, ma ci sono tanti italiani che stanchi probabilmente di accedere ai luoghi deputati, per essere ascoltati e in qualche modo tutelati si rivolgono alla Caritas. E noi cerchiamo che percorrano delle strade positive, con esiti positivi, ma cominciamo sempre con le cose di base, il mangiare e il vestire. Ultima cosa Don Luigi, che dimensione ha, vede quest'anno rispetto allo scorso anno dei senza tetto in città? Sono situazioni in crescendo, anche perché la situazione sociale, economica, finanziaria di molte famiglie, pur andando a lavorare, non sono più in grado. Sono dei poveri che lavorano e quindi non sono in grado di poter sopperire quelle che sono le tasse, le utenze che servono per poter riscaldare la casa, farsi da mangiare. Quindi vedo le cose abbastanza in negativo sotto questo aspetto, anche se di fatto, e dobbiamo riconoscere che noi incidiamo sulle conseguenze, non ancora sulle cause. E alla Casa per Anziani di Cividale del Friuli è stato inaugurato oggi un nuovo spazio, una nuova area dedicata e pensata appositamente alle persone che soffrono di Alzheimer. Il primo nucleo realizzato secondo l'approccio Medite è basato sulla terapia ambientale. La terapia ambientale non è altro che la realizzazione di un percorso terapico utilizzando un ambiente studiato e pensato in ogni minimo dettaglio per attuare una cura rispetto a una patologia. Per quanto riguarda il morbo di Alzheimer, tutti gli ambienti sono stati studiati per garantire sicurezza, tranquillità e finalizzati al recupero dell'autonomia e delle capacità residue degli ospiti affetti di Alzheimer. Ogni stanza è assolutamente personalizzabile per l'ospite ed è pensata in questo modo proprio per favorire, come dicevo, l'autonomia dell'ospite e quindi mettere a sua disposizione tutti gli oggetti che lui ancora è in grado di utilizzare. Non ci rendiamo ancora conto, o perlomeno qualcuno non si rende ancora conto, che ci sono risposte a bisogni di salute che devono rispondere alla catena dell'integrazione sociosanitaria. La nostra società fortunatamente ha una capacità di vita superiore ormai di diversi anni. Non può avere una risposta organizzata in un modello fondato sulla cultura ospedaliera. La migliore risposta di salute la si fa il più lontano possibile all'ospedale. All'ospedale bisogna andare, ma bisogna andare quando serve e nei momenti necessari, in particolare di fronte a custi, a situazioni complesse. E questo però non risolve il problema di salute, cioè il problema di salute è molto più lungo ed è chiaro che noi dobbiamo articolare le risposte a quegli elementi che oggi vedo in una società che è un elemento di cronicità molto più importante. Quando vivi vent'anni di più ti porti addosso degli acciacchi che quando sei più giovane non hai. Andiamo avanti con la cronaca perché c'è stato un infortunio sul lavoro oggi attorno alle 12 nella zona industriale del porto di Monfalcone. Per cause in corso di accertamento un uomo di circa 50 anni è stato colpito a un braccio da un bilanciere di circa 20 quintali. assistito dall'equipe sanitaria con il supporto dei vigili del fuoco è trasportato all'ospedale di Monfalcone. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Versa invece in gravi condizioni un uomo di circa 60 anni trovato senza conoscenza in un capannone di una marina nella zona industriale della Ussacorno a San Giorgio di Nogaro. l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Udine in codice rosso. Ha imboccato l'autostrada la 23 in direzione nord contro mano e ubriaco l'ha percorsa per 16 chilometri comprese 5 gallerie fino a quando non è stato fermato dalla polizia stradale. Il conducente, un cittadino austriaco, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza poiché sottoposto all'alcol test ha risultato avere un tasso alcolemico nel sangue 5 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'episodio è avvenuto alle prime ore di ieri. Nuovi risvolti nel caso della NFT, la società veneta che offriva interessi da capogiro per le criptovalute ma ha fatto sparire nel nulla tutti i soldi degli investitori. Esponenti della camorra avrebbero intercettato uno dei soci a Dubai e sì, sarebbero fatti restituire il denaro. Sentiamo. Sono tanti gli investitori che si sono lasciati convincere dalla possibilità di guadagni facili con le criptovalute attraverso la società NFT, New Financial Technology di Silea. Promettevano guadagni mensili del 10% grazie a un algoritmo di compravendita di bitcoin e altre monete digitali. Ma alla fine si è creato un buco da oltre 100 milioni di euro con 4.000 clienti rimasti con un pugno di mosche e ben poche speranze di rivedere i soldi spesi. Dietro la società, che ha coinvolto molti investitori in tutto il nord-est, ci sono Mauro Rizzato, Emanuele Giullini e Christian Bizantin. Quest'ultimo vive a Dubai e qui è stato raggiunto da alcuni investitori delusi. Si tratterebbe di esponenti della criminalità organizzata campana che tramite uno dei tre soci sono riusciti ad avvicinare Visantin e farsi restituire milioni di euro con metodi poco diplomatici. La notizia arriva da un'agenzia di investigazione privata che sta seguendo il caso ingaggiata da uno studio legale. Il gruppo di criminali sarebbe riuscito ad avvicinare Visantin che temendo per la sua incolumità cerca di non farsi raggiungere da nessuno grazie all'intercessione di Emanuele Giullini, socio dell'azienda e avvocato che esercita a Roma ed è originario di Cava dei Terreni in provincia di Salerno. Una volta incontrato l'uomo sarebbero riusciti, non si sa con quali metodi, a riavere tutta la somma investita fino all'ultimo centesimo. Il denaro, secondo quanto emerso, veniva usato sia come strumento finanziario che come metodo per pulire il denaro. E quattro cittadini italiani sono stati fermati oggi a Bruxelles dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta per sospetta corruzione. Tra questi, come leggiamo sul sito dell'Ansa, anche Luca Visantini, da poco nominato segretario generale dell'Organizzazione Internazionale dei Sindacati ITUC e l'ex europarlamentare Antonio Panzeri, a casa del quale a Bruxelles sarebbero stati trovati 500 mila euro in contanti. Fermati è anche il direttore di una ONG e un assistente parlamentare. Tutti, scrive l'Ansa riportando le parole di un quotidiano francofono, sono a disposizione del giudice che nelle prossime 48 ore potrebbe decidere di spiccare eventuali mandati di arresto. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, il sospetto è che un paese del Golfo, il Qatar, nella fattispecie, abbia tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo. Con la cronaca adesso torniamo in Friuli Venezia Giulia, Pordenone in particolare. Attenzione alle richieste di denaro da parte di operatori, di associazioni di volontariato che in questo periodo natalizio operano anche nella nostra regione. A lanciare l'allarme è appunto proprio la polizia di Pordenone che ieri ha denunciato un 25enne di Torino che in piazza Cavour mostrava opuscoli illustrativi di una fantomatica casa famiglia, fermando i passanti e coinvolgendoli a fare donazioni per le persone in difficoltà. In realtà le offerte raccolte finivano nelle tasche dell'uomo in quanto la casa famiglia non esisteva. All'uomo sono stati sequestrati anche 365 euro, frutto dell'attività illecita posta in essere appunto dallo stesso nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Nuovo appuntamento con Fairplay questa sera alle telecamere di TV12 a servizio dei telespettatori. Oggi risponderemo alle tante segnalazioni sui disservizi nella gestione della raccolta dei rifiuti. Allora andiamo a vedere un breve estratto della puntata di questa sera durante la quale parleremo però anche di altre cose. Vediamo. Sono in via Forni di sotto, siamo nella zona tra l'ospedale e Chiavris. Questi sono i bidoni del condominio sostanzialmente qua alla mia destra. Direi che tutto questo si commenta da solo. Carmine, se riesci un attimino a prendere l'immagine lunga anche dalla mia parte, questo per farvi vedere che ormai non c'è più differenza tra indifferenziato, plastica, carta e direi la qualunque. Qui abbiamo addirittura un piano in gomma più ma evidentemente qualcuno ha pensato di fare ripulisti in casa. Quindi sicuramente quando passeranno gli operatori della NET credo che prenderanno e vuteranno tutto all'indifferenziata. Appuntamento dunque questa sera dalle 21.15. E adesso andiamo a New York dove è arrivata la nave da crociera varata qualche giorno fa, circa due settimane fa, a Monfalcone la MSC Seascape che è stata accolta da tante star nella Grande Mela. Vediamo. È stata costruita a Monfalcone da fincantieri la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai realizzata in Italia. Un battesimo da sogno per la MSC Seascape a cui affare da sfondo è stata la Grande Mela a conferma del ruolo strategico del mercato americano nella crescita di MSC Crociere alla presenza di oltre 3.000 persone ed importanti ospiti internazionali come Sofia Loren, Nio e Matteo Bocelli oltre alle autorità statunitensi e centinaia di giornalisti da tutto il mondo. Una nave che ha richiesto un investimento pari a circa un miliardo di euro che ha generato sul paese un impatto economico pari a circa 5 miliardi assicurando migliaia di posti di lavoro. MSC Seascape è la quarta nave costruita per MSC da fincantieri su un totale di 10 navi finora ordinate al cantiere italiano per un investimento complessivo in Italia superiore ai 7 miliardi. L'avventura della MSC Seascape è iniziata ieri con la partenza da New York per raggiungere Miami da dove si dirigerà ai Caraibi e alle Bahamas per la sua stagione inaugurale e i suoi itinerari da sogno. Parliamo adesso del progetto la Pimpa Magica il suo papà il papà della Pimpa Altan ha messo a disposizione la sua creatura ha messo a disposizione della Fondazione Radio Magica per realizzare prodotti multimediali in formato audio, video con la lingua dei segni ma anche con i simboli della comunicazione aumentativa, alternativa. Vediamo. Assessore Gibelli il Friuli Venezia Giulia è in prima linea per l'inclusione sociale e lo fa con un partner d'eccellenza la Pimpa. Sì, facciamo grazie al papà della Pimpa maestro Altan che stamattina è venuto nella sede della regione a spiegare perché ha aderito a questo progetto e che ha regalato la parte essenziale che è la Pimpa che si dimostra ancora oggi un grande veicolo di comunicazione sociale perché non è un progetto che è rivolto solo all'infanzia è un progetto che sapete intanto lo dico la parola inclusivo a me non piace perché presuppone che ci sia un inclusore e un incluso ma non ne trovo un'altra e quindi devo dire che è un progetto veramente inclusivo anzitutto è stato finanziato da un soggetto nazionale che è appunto il centro per il libro e la lettura ed è un progetto che già essendo online raggiunge tutto il paese e questo ci indorgonisce ulteriormente dobbiamo ringraziare Elena Rocco Noi siamo in chiusura di questa edizione serale del nostro TG abbiamo già ricordato l'appuntamento con Fair Play questa sera alle 21.15 è nella nostra serata vi ricordo anche l'appuntamento con Friuli Chiama Mondo alle 20.45 e con cartellino giallo alle 19.50 e alle 22 adesso vi lascio alle previsioni del tempo e auguro ancora a tutti voi una buona serata su TV 12 Amici di Udinese TV ben ritrovati a tutti da Vanessa Minotti di Trebi Meteo correnti molto umide nella giornata di sabato apporteranno condizioni di instabilità in dettaglio diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sulle province di Udine e Pordenone cieli molto nuvolosi in mattinata con un peggioramento atteso tra il pomeriggio e la sera avremo piogge e rovesci a carattere sparso segnalo della neve sui monti a quote di media montagna temperature minime intorno ai 5-7 gradi massime intorno ai 10-12 gradi e diamo uno sguardo anche alla situazione attesa tra Gorizia e Trieste nuvolosità diffusa in mattinata che permarrà anche nel corso del giorno ma come dicevo con un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso anche qui le temperature massime non supereranno i 12-13 gradi con questo è tutto ma per saperne di più restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo Grazie a tutti